Buongiorno, oggi è veramente un buongiorno, mi viene un po' da ridere perché è stata una nottata di quelle che non si dimenticheranno mai più. In molti chiaramente lo sanno, i pochi che non sono ancora stati avvisati da qualcuno non ne hanno contezza, intanto tra poco faccio le solite condivisioni, ma diamo benvenuto anche a Guido Monaco. Avevo detto io uno, un per cento, non potete dire che non l'avevo detto. Io mi ero espresso non so perché il 20, ma più che altro perché non avevo visto benissimo Djokovic. Nardi mi era piaciuto nel primo match con Zhang, ma non è che mi fossi spinto a tal punto da essere convinto che avesse veramente reali possibilità, anche perché adesso spiegheremo cosa ha detto anche lui, cos'è successo. E soprattutto vi dico semplicemente io come mai ho visto tutta la partita. Io di questo l'ho vista tutta. Perché in sostanza nonostante tutto dico va bene, facciamo così. Siccome Sinner probabilmente giocherà lo stesso orario, allora quello che mi sembra logico è cerchiamo di creare già la possibilità di avere una cosa del genere che anche nelle giornate precedenti ho cercato di fare, ma non era così facile. Allora mi metto lì e inizia la partita. Io dopo due o tre game dico ma scusate ma era questo il dritto di Nardi? Io non me lo ricordavo così il dritto di sto ragazzo, perché un po' come l'effetto devo dire anche Zepieri che ho avuto in Australia, io non me lo ricordavo esattamente così Zepieri, ma sinceramente Nardi mi ha fatto un effetto poi per questa partita, non lo so come andranno le cose avanti. Intanto ho finito finalmente le condivisioni. No, io sono rimasto incantato il primo set di Nardi, però c'era da dire che Djokovic stranamente sbagliava tantissimo di dritto, non lo so, l'avevamo visto negli allenamenti mettersi il manicotto per il fatto del gomito, lui poi in conferenza stampa ha detto di aver giocato male ed è vero il primo set e più o meno verso la fine del primo set succede che a un campo di campo Djokovic dice letteralmente pillola di stomaco, no? E lì dici apriti cielo, qua adesso cosa succede? Vorrà mica dire che sta male, si vedeva che non era Djokovic proprio a cui sono abituati. Allora Zimaglia che non aveva capito il suo clan subito, l'angolo immediatamente la questione scende e porta una sorta di, credo fosse tipo entro Germina o qualcosa del genere, non lo so, immagino. Comunque prende questa cosa effervescente credo direttamente in bocca e perde il primo set dove Nardi gioca sinceramente una partita già sorprendente. poi uno si dice, adesso io racconto quello che ho visto, poi non so tu quello che sei riuscito ad intercettare, l'inizio del secondo set è stato surreale, letteralmente surreale perché va avanti di un break subito Djokovic e credo fosse il terzo game che succede a quel punto in cui gioca, serve Djokovic e Nardi sembra fermarsi, quasi non vuole rispondere perché la vede fuori, però c'è il sistema elettronico della chiamata e nessuno chiama niente e lui la butta di là. Djokovic così dice, vabbè, la butto di là anch'io, però si ferma Djokovic dice, e Nardi gli fa il passante andando comunque a recuperare la palla, non sapendo se era giusto quello che stesse facendo e lì inizia la discussione con Giudici Halsworth o qualcosa del genere che è lo stesso che ho visto in Netflix Slam, c'era lui e inizia la discussione per dire se è fermato, ha fermato lui il gioco, beh, il punto è mio, no? Lo rigiochiamo quantomeno. O almeno rigiochiamo, tant'è che alla fine della partita quando stringe la mano gli dice però lì non mi sei piaciuto, bravissimo, ha detto ma lì non mi sei piaciuto. Ma ho letto un'interpretazione per cui è il contrario, sembrerebbe il contrario, cioè Nardi va a giustificare, anticipa, dicendogli, guarda scusa per quella questione lì e lui gli fa, dai non ti preoccupare, non è successo niente. Ma io ho capito che ha fatto un cenno al fatto che lì, sì non è che non ha fatto discussioni di Djokovic, per carità, già è un momento. Ma sul momento magari sì, però poi sulla parte della partita non ha, no, la stratta di mano non c'è stata discussione, anche perché veramente Luca Nardi è un ragazzo che è eccezionale, è semplicemente eccezionale, poi ne riparliamo, però io il terzo set non credo ancora adesso di averlo visto, cioè il dritto ha fatto di quelle cose vincenti che abbiamo detto con queste condizioni particolari era difficile farne, ne ha fatti 34 di cui 16 nell'ultimo set che è una cosa, ha servito anche bene, cioè venivano fuori le statistiche, una cosa, cioè ridevi perché il 91% di prima in campo faceva praticamente tutti i punti con la prima e uno dice che cosa stiamo vedendo? A un certo punto i commentatori di Tennis TV dicono questa cosa, che lì per lì io neanche ci avevo pensato anche perché era notte a casa mia, da loro invece era un orario più umano in California e gli dicono ma cosa c'hanno questi italiani? Tira fuori il fatto che nelle ultime, quante erano? Sei partite gli italiani l'hanno battuto quattro volte Djokovic. Nelle ultime nove forse l'hanno battuto cinque perché c'è anche quella di Musetti, tre di Sinner. Sì no però contando prima di Nardi. No, le ultime nove sconfitte di Djokovic, cinque sono venute con giocatori italiani. Sì però il dato è che nelle sfide con gli italiani delle ultime sette mi ha perso cinque. Poi si può mettere in mezzo anche il discorso del doppio che ha perso pure quello di Davis con Djokovic ma io mi ricordavo che quando Musetti ha battuto Djokovic mi ero già incredibilmente stupito nell'aver verificato il fatto che lì c'era Sinner che non era ancora questo Sinner che aveva battuto al Caras da numero uno del mondo a Miami e poi Musetti batte Djokovic da numero uno del mondo a Monte Carlo che era già tanta roba perché erano due master mille consecutivi e Sinner poi chiaramente l'ha battuto tre volte soprattutto in che tornei perché poi se elenchiamo queste cinque sconfitte tra Musetti, Sinner e Nardi che hanno procurato a Djokovic sono tutti grandissimi tornei ma comunque anche fantasticare è bello però bisogna stare anche un attimino con i piedi per terra sicuramente Djokovic non è stato il migliore ma nel terzo cioè stava giocando da Djokovic poi sbagliava ma ci sono stati degli scambi di una intensità io ripeto non ero consapevole che questo fosse Nardi non so poi adesso perché poi l'intervista a fine match gli dicono ma non ti conosceva nessuno e hai fatto quello che hai fatto e lui ha ribadito questo concetto dai sì io sono cento del mondo non devo neanche essere qua da quello che poi sentivo raccontare dai commentatori lui è stato intelligente ad aspettare una notte in più perché era il terzo lucky loser diceva beh io rimango comunque no poteva anche fare altre scelte ed entra al posto di Ciaverri e succede questa cosa ho visto anche la statistica della classifica più alta dei lucky loser che hanno battuto il numero uno del mondo credo che lui sia al terzo posto se non ricordo male non lo so è stata una notte io non ci credo ancora sai allora lo so posso partire perché sono le cose da dire intanto dovrebbe Luca Nardi prendere il tabellone di questo torneo allineato agli ottavi e leggere dal basso verso l'alto Alcaraz, Marojan che comunque gioca bene De Minor, Zverev, Sin, Shelton, Zizipas, Lech, Karune, Fritz, Dimitrov, Medvedev, Monfils, Rudd, Paul, Nardi e capire che è vero è successo un mezzo miracolo è vero c'è stata della fortuna perché è stato ripescato ma è altrettanto vero che tutti quelli che si occupano di tennis in Italia si sapevano benissimo era molto conosciuto, non poco conosciuto e penso che anche tra gli addetti ai lavori internazionali perché ricordiamoci che solo per fare un esempio Luca Nardi che è dell'anno di Rune e di Alcaraz fino a under 14, anche under 16 giocava, riguardava negli occhi Rune ed Alcaraz all'EPT TAS, la TARB ha vinto lui, ha battuto in semifinale Rune e in finale Medvedevic, ok, ha vinto singolo e doppio solo due giocatori sono riusciti a vincere quel torneo under 14 in singolo e doppio vinto da Nadal, non vinto da Federer insomma dove hanno giocato tutti i più grandi quindi Nardi è, l'abbiamo visto ieri sera esprimersi al massimo delle sue potenzialità ma è un giocatore che gioca da Dio a tennis e lo diciamo sempre, anche quando io ero molto critico per il suo atteggiamento sul campo dell'ultimo anno e mezzo alcune volte e quando dicevo un per cento perché chiaramente avevo la sensazione che Djokovic pur essendo a corto di partite tenesse molto a questo appuntamento e infatti questo secondo me è un punto lui teneva molto a questo appuntamento perché non ci veniva da cinque anni perché voleva guadagnare punti in classifica eccetera eccetera quindi rispetto perché poi quando un italiano batte Djokovic al numero uno non stiamo sempre lì a crederci ma che Djokovic era era un Djokovic che come hai raccontato tu aveva avuto dei problemi il primo set sia tennistici che probabilmente di salute diciamo così ma che poi ha venduto comunque cara la pelle cioè se prendiamo la sconfitta con Sonego a Vienna chiaramente era a fine stagione un Djokovic sotto tono lo dice anche il punteggio se è 1-6-2 non ho quasi mai visto giocare male Djokovic come contro Musetti a Monte Carlo senza togliere niente come al solito però diciamo la verità giocava veramente male sbagliava il terzo scambio aveva problemi al gomito Sine era un'altra cosa l'ha battuto al meglio quindi le vittorie di Sine erano un peso specifico straordinario anche visti gli appuntamenti mentre questo di ieri era un Djokovic comunque non era così malmesso diciamo come poteva essere in altre situazioni contro italiani perché ricordiamo c'era anche stata la vittoria di Cecchinato prima famosa a Roland Garros insomma qualche italiano gli aveva fatto lo sgambetto però qua stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni anche Sonego è molto immaturo che si deve ancora fare Sinego a Vienna era proprio un Djokovic effettivamente e c'era un'altra persona stiamo parlando di un giocatore che non ha ancora trovato la miglior condizione ma è Djokovic e tu per la prima volta vai in questi palcoscenici in un master rale pieno di gente e tieni il campo in quella maniera alla fine porti a casa anche la partita giocando un tennis meraviglioso perché lui gioca un tennis meraviglioso e adesso si deve convincere che deve stare come io vado ripetendo da tempo dentro a Mena i primi 50 per quest'anno e poi è un giocatore che forse a livello tennistico ha il potenziale più alto in Italia e ci metto dentro anche Siner quindi io davo un per cento perché leggevo la situazione dicevo vabbè Djokovic vuole assolutamente far strada in questo torneo per Nardi la prima volta ma che Nardi fosse un giocatore speciale e non c'erano chi lo conosce un po' con la sua carriera anche da junior ma anche i primi due anni nel professionismo perché in mezzo dei buchi di sceneggiatura ha vinto 5 challenger si è qualificato due volte nel 500 ha giocato alla pari con Tsitsipas cioè l'altro giorno ha battuto Zhang che è uno dei giocatori più in forma tra quelli non top quindi le punte erano molto alte il problema è che c'è stata molta discontinuità come spesso c'è anche all'interno dello stesso match ma la qualità tennistica poi ragazzi avete visto quando ha stretto la mano a Djokovic è piazzato eh non è che è un brutto fisico è un bel torellino quindi c'è tutto con tanti tanti margini di miglioramento sono d'accordo no nel secondo set poi c'è anche stato il fatto che io l'avevo visto altre volte però sinceramente non l'avevo mai visto giocare il rovescio ok sapevamo si sa e tra l'altro era di rovescio sbagliato meno Djokovic e riusciva a tenere quella diagonale senza grossi problemi mentre di dritto sinceramente non so se ha mai giocato con così tanti vincenti c'è stato quel dritto un po' alla Sinner qualcuno l'ha detto quando ha chiuso quel punto con lungolinea è stato impressionante nel secondo set i commentatori di Tennis TV hanno insistito forse anche troppo sul discorso che lui a un certo punto si è toccato l'anca a destra e faceva un po' di movimenti con quella gamba io penso che sia stato soprattutto un discorso più emotivo cioè non erano crampi o non era un problema fisico era che la tensione l'ha lasciata un po' andare alla fine del primo set anche per quella situazione che c'era stata nel terzo game che comunque è un ragazzo di 20 anni classe 2003 non era abituato come hai detto tu a stare in quel tipo di palcoscenico la cosa simpatica e divertente è stata anche quando in conferenza stampa gli hanno chiesto cosa ci dici di Tommy Paul e fa ma perché? cosa è che volete sapere di Tommy Paul? cosa c'entra? e guarda è il tuo prossimo avversario ah scusate io non mi sono spinto a guardare chi c'era in quella zona di tabellone e tutti a ridere ma perché? è normale lui è veramente un ragazzo molto tranquillo e molto carino molto appunto appunto da volte dava a me ma non solo a me la sensazione di essere anche troppo troppo buono molto rilassato un mammone ancora un po' un mammone infatti anche le sue scelte professionali di farsi seguire fino a poco tempo fa dal maestro di Pesaro non avere apparentemente uno staff così proprio di primissimo livello per una speranza del genere però lui voleva stare vicino a casa lui voleva insomma ha avuto una crescita molto diversa però adesso Rune se guarda il tabellone poi magari i teleconisti di Tennis TV non lo conoscevano ma Rune se guarda il tabellone dice ah finalmente è arrivato porco cane è arrivato anche questo qua che mi suonava quando avevo a volte mi suonava quando avevo 14 anni quindi lui quando tu per mia esperienza quando tu è vero che non sempre i tornei giovanili tanti si sono persi ma altre tanti invece non si sono persi quindi se tu riesci ad arrivare al professionismo di alto livello il fatto di essere un vincente di essere stato un vincente a livello junior è un valore aggiunto perché qua si tratta di vincere partite qua si tratta di credere tante volte di poter stare dentro a un livello ok quanti ne vediamo che giocano bene che giocano bene poi non arrivano o fanno fatica lui nella sua testa per quanto abbia si sia impegnato in certi momenti a dire beh ma io anche l'altro è un miracolo io sono uno sconosciuto lui è un campione è un potenziale campione e quando farà ancora qualche scatto questo vabbè questo è fin troppo esagerato diciamo ma già solo la vittoria con Zhang e una partita eventualmente dignitosa con Djokovic voleva dire che lui faceva questo scatto secondo me definitivo a dire ma perché quando tu vedi quelli che battevi a 14 a 15 a 16 anni che sono numero 3 numero 5 numero 2 del mondo ma per forza ci credi per forza ci credi di più di uno che arriva dal nulla o che comunque ha avuto una carriera junior non eccezionale io ti riporto una mia esperienza che forse ti ho già raccontato 2015 tirocinio per maestro nazionale vado a Tirregna a fare la settimana di tirocinio c'era un raduno di under 12 classe 2003 quella di Nardi c'erano tutti i ragazzini e la ragazzina più brave del 2003 era un raduno di una settimana coordinato da Giancarlo Palumbo che mi dà lo ringrazio anche l'occasione di allenare i ragazzini più forti di quell'anno c'erano lui c'era Luca Nardi c'era Giulio Perego c'era Tramontin c'erano la Cava c'erano questi ragazzi qui quindi io sono stato una settimana a allenare Nardi posso dirlo adesso mi vanto di questa cosa e aveva 12 anni era a parte che aveva già un bel fisico sapeva fare tutto sapeva fare tutto era straordinario giocava al back cambiava ritmo con questa flemma questo suo modo un po' molto morbidone di giocare però era un fenomeno cioè io ho visto raramente a 12 anni giocare a tennis così una mattina abbiamo giocato un dei doppi mancava il quarto ragazzo ho fatto io il quarto che insomma dieci anni fa più o meno non ero non ero ancora disastrato come adesso giocavo a tennis e ti giuro che dovevo impegnarmi al massimo aveva 12 anni e mi ha fatto delle giocate che sono rimasto a bocca aperta quindi io ero stupito che non dico che non battesse Djokovic io ero stupito che non fosse già almeno nei primi 50 non so che cozza col mio pronostico di ieri ma il pronostico spero abbiate capito che era più che altro una questione di pensare realmente che potesse batterlo e non lo pensavo però che lui sia un super un super giocatore di tennis non c'è il minimo dubbio da quando aveva dieci anni ok no no ma io il discorso facendo un paragone con Musetti che Musetti l'abbiamo visto nei torni junior sia in Australia che a New York esprime a un certo livello e soprattutto quel discorso del rovescio a una mano che chiaramente ha subito solleticato la fantasia e quindi è arrivato in una maniera diversa Musetti sicuramente rispetto a Nardi che aveva fatto delle cose un po' prima ma pensa l'anno scorso a Monte Carlo Musetti si qualifica Nardi si qualifica e becca al primo turno wild card Vascerò un giocatore di Monaco quindi di nuovo vedi che il dio del tennis gli aveva già dato dei segnali guarda che io te la do la spintarella però poi mettici qualcosa è andato in campo ha preso 6-0 6-0 da Musetti era da prenderlo per un orecchio e portarlo fuori dal campo ok io ho finito di vedere quella partita ero arrabbiatissimo perché lo guardavo con grande curiosità ho detto boh poi Musetti sulla terra ragazzi è fortissimo però dai 6-0 6-0 con quell'atteggiamento cioè è veramente però qua e là qualificato al 500 Hamburgo qualificato ad Astana al 500 partita pari con Zizipas c'erano già le avvisaglie che questo non era uno che doveva fare la gavetta nei Challenger in due anni ne ha 25 di Challenger quindi è problema che è chiaro che se non metti continuità e non metti quella quella gara in più a certi livelli ovviamente anche se è un fenomeno non ci puoi non ci puoi stare adesso io spero proprio che questo sia l'iniezione di fiducia di convinzione definitiva per fare il professionista a tutto tondo e aggiungersi in maniera definitiva ai giovani fortissimi italiani e ti dico sinera parte io penso che lui possa veramente essere il più grande prospetto che abbiamo in casa e non ne abbiamo pochi cioè rispetto ad Arnaldi che gioca strabene rispetto a Zeppieri che sai che mi piace tantissimo Cobolli cioè qui stiamo parlando di un'altra cosa ok chiariamo questo 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 fatto so che dirlo adesso può sembrare facile però stiamo parlando di un'altra cosa ma io mi ricordo una partita credo che fosse torneo in Kazakistan dove lui ha giocato con Tsitsipas e è arrivato veramente Astana è arrivato veramente vicino a giocarsela o comunque sono stati sono state molto equilibrata ha avuto anche forse un problema fisico lì davvero e era impressionante vederlo lì ma onestamente non perché ci fosse Djokovic ma per l'intensità del terzo set anche a livello di errori ne ha commessi pochi a un certo punto nel secondo set sembrava che si potesse prefigurare la classica situazione per cui Djokovic prende in mano la partita anche per come i commentatori anche lì sempre facevano notare che il break era arrivato ad inizio secondo set da una situazione di 40-0 Nardi che poteva essere un piccolo shock no? Sì secondo set è andato come è andato però anche come è successo con il cinese Zhang ugualmente ha avuto io ho visto il terzo set di quella partita ho visto che ha reagito cioè a un certo punto gli ha proprio chiuso la porta a Djokovic è chiaro che un filo ha tremato quando è andato avanti che gli mancava di servire per il match Djokovic è tenuto facilmente poi però ha chiuso con tu Ace servizio vincente servizio Ace cioè ha fatto gli ultimi tre punti di nuovo da campione gioca con i piedi vicino alla riga ti avevo parlato forse l'avevo visto dal vivo l'ultima volta alle qualificazioni di Parigi due anni fa e poi aveva perso al terzo turno di Quali però davvero vedevi dei momenti di tennis entusiasmanti entusiasmanti la differenza qua è adesso capire adesso da qualche mese è seguito dal team di Giorgio Galimberti che ha aperto un suo centro molto bello a Cattolica quindi io non so adesso non sono in grado di dire i meriti di Giorgio in questa in questo suo miglioramento due settimane fa il Challenger in India ha perso dal numero 460 del mondo la settimana prima aveva fatto finale aveva perso da Nagal insomma diciamo che è girata bene perché lucky loser per un pelo però adesso adesso vediamo vediamo con Paul sarà interessante vedere se a livello di energie nervose e di veramente di spessore è già pronto è già pronto per questi palcoscenici il giorno e mezzo potrebbe anche da questo punto di vista aiutare vediamo vediamo però ragazzi che bella impresa che bella impresa che piacere vedere giocare a tennis così bene a proposito di Galimberti dico che mi ha un po' sorpreso in senso positivo o comunque sorpreso l'atteggiamento che avevano loro cioè è come se stesse giocando una partita qualunque dal punto di vista del box perché nelle diverse volte che sono stati inquadrati non c'erano espressioni di sorpresa cioè davano i consigli che erano giusti ripeto è stato un momento un po' più difficile mentalmente per Bernardi e lì sono stati bravi a dire le cose giuste e anche questo ma sorpreso perché come dici tu loro non sono sorpresi ecco allora per quel che so io al di là che la federazione l'ha sempre supportato perché chiaramente col preparatore atletico Barsacchi credo che sia quello anche della vittoria di Francesca Schiavone a Parigi però il suo team tecnico diciamo era veramente dei suoi amici dei suoi degli allenatori che l'hanno seguito da ragazzino lui girava fino a poco tempo fa il circuito con questo maestro con questi suoi amici che con tutto il rispetto bravissimi però non avevano ovviamente l'esperienza anche per Giorgio Galimberti come altri ragazzi e comunque l'hanno assaggiato il tennis quando si dice che Musetti ha bisogno del super coach per dire quindi in proporzione credo che quell'atteggiamento che dicevi tu del team è anche quello va bene stiamo giocando con Djokovic ma Djokovic è un fenomeno però ha due gambe due braccia non è magari al 100% proviamo a batterlo non dobbiamo andare in campo a fare la passerella o a far bella figura a perdere 6-2 6-2 in questo sicuramente il cambio di team può dargli qualcosa poi sai adesso sto sto immaginando da fuori bisognerebbe sempre conoscere le dinamiche però ricordiamoci al tempo stesso che Luca Nardi è un ragazzo molto particolare ripeto molto molto carino ancora un po' immaturo sotto certi punti di vista e quindi insomma non cantiamo vittoria da un lato perché lui prima di tutto l'unico problema è che lui si deve convincere credo lo stia facendo adesso adesso deve per forza però sai ogni persona è diversa non hanno tutti la testa di Sinner o la la voglia di Sinner lui già ha una filosofia lo leggevo anche in questi giorni per cui lui vuole divertirsi vuole andare in campo molto rilassato vuole andare in campo a giocare cioè per lui deve essere un gioco perché nel momento in cui diventa un lavoro troppo serio troppo serio allora poi perde proprio quello spirito quello stimolo quell'ispirazione anche per giocare un tennis che è difficile perché lui gioca un tennis comunque di di grande qualità ma non semplice non percentuale ecco diciamo non gioca un tennis percentuale e dai vediamo vediamo c'è molta curiosità e intanto è bello che sia che sia successo ma io e devo dire stiamo parlando da mezz'ora di Nardi non abbiamo parlato neanche tanto di gioco quello che ho la sensazione è che per quello che stavi dicendo tu è che lui a differenza di tutti gli altri forse un po' Berrettini è così perché nel momento come dicono adesso quelli bravi il suo prime Berrettini aveva questa battuta c'è là la battuta facile ma Nardi non è che la battuta facile Nardi ha anche delle piccole gaffe se vogliamo ma che sono stupende e credo che lui senza proprio impegnarsi minimamente farebbe facilmente i titoli per i giornali un po' tipo tomba non sto dicendo che è forte come tomba sto dicendo che ha quello spirito non Guascone nel suo caso ma vive come dici tu la vita del tennista per divertirsi ma nel modo giusto nel modo corretto non nel voler io ti ribadisco un episodio dal vivo di un anno e mezzo fa a Parigi stavamo guardando la partita di qualificazione di mi sembra di Zeppieri contro Seppi dietro si siede ci sono due persone sulla sessantina e ci presentiamo e erano i genitori di Luca Nardi dopo un po' arriva e scambiamo quattro parole aveva appena vinto da poco il suo turno si siede dietro a parlare con i genitori che incontrava per la prima volta perché evidentemente i genitori erano arrivati dopo e avevi la sensazione veramente un anno e mezzo fa aveva 18 anni e mezzo di veramente un ragazzino andiamo a mangiare il gelato dai andiamo a prendere il gelato e facevano questa cosa molto carina molto bella e poi il giorno dopo il turno che ha vinto ancora secondo turno eravamo seduti vicino e i genitori soffrivano come dei matti però credo che ci fosse il papà con una grande con una grande con grande dignità diciamo comunque fingendo però si vedeva che sotto sotto ci tenevano da matti ma senza mettere nessun tipo di persona sono una famiglia molto carina il papà è napoletano credo trasferito nelle marche e voilà dai il titolo che dicevi tu potrebbe essere trova l'intruso se guardi il tabellone trova l'intruso ma vedremo che io credo e spero che non sarà intruso per molto a quel livello lì adesso veniamo ai vostri messaggi sto pensando al resto perché la giornata era un po' tristarella per il tennis italiano era vedendo il programma insomma non è che c'era una grossa speranza poi in realtà siamo Musetti che Bronzetti in due partite dell'andamento abbastanza simile nel punteggio perché Bronzetti in primo set ha perso 6-2 ma era uno scandalo perché ha avuto nove palle break ed era un 6-2 bugiardissimo mentre Musetti non è entrato in partita contro un ottimo Rune poi nel secondo sess la sono giocata alla grande hanno avuto occasioni tutte e due perché hanno servito 5-4 al tie break entrambi e hanno perso quel tie break gli è mancato proprio il crederci un po' di più e soprattutto rimpianti per Lucia Bronzetti perché Dio Goff ragazzi scusate ma se il tempo femminile deve affidarsi a lei per ritrovare smalto e visibilità non siamo messi benissimo penso che Gilbert più che altro lui non vorrà durare molto credo che c'è un problema tecnico sul dritto tecnico e mentale se non risolvi quel problema purtroppo nonostante tutte le altre grandi qualità sto dicendo che è scarsa però io credo che farà molta fatica a imporsi o a vincere altri torni importanti perché c'è un limite incredibile che le giocatrici conoscono che lei vive male e ripeto ieri Lucia se ci avesse creduto un po' di più almeno al terzo la portava il turno prima con la Paris ha vinto per miracolo quindi insomma sono i match i risultati che dicono che lei è in difficoltà poi vediamo è vero che ha 20 anni però è sul circuito da quando ne ha 14 quindi non è che se quel dritto non l'hanno sistemato ancora non è facile da sistemare il dritto non basta volerlo io poi ho visto un buon rude come vi ho detto ieri secondo me è un giocatore che è veramente ormai già in ripresa quasi completa Mettrede che poi ha giocato un buon secondo set a un certo punto anche se era sotto set 1-0 e 0-40 era finito il match poi ha salvato quel game si è messo un po' il careggiato ma passa la partita a parlare a parlare a fare questi gesti con questi monologhi finti monologhi a un certo punto Tartarini gli ha detto ma parla meno parla meno pensa a giocare ma come fa un giocatore di quel livello professionista avere un atteggiamento è veramente sai che ne parlava Furlan l'altro giorno dell'attitudine dei giocatori italiani che una volta erano famosi è veramente un giocatore da questo punto di vista di un'altra epoca io continuo a vedere Fonini in lui mi spiace da quel punto di vista adesso non giocherà a Miami perché tra poche settimane ne nascerà il figlio però ha un atteggiamento sul campo sempre molto negativo sempre molto questi appunto questi monologhi non mi piace non mi piace tanto mi piace vederlo giocare sulla terra tanto poco mi piace vederlo giocare sul cemento sono sincero allora salutiamo Mauro Betti che dice ma Nardi è più forte di Cubolli adesso si innescano questi meccanismi Nardi ha delle qualità che sono lì evidenti più forte è chi vincerà più partite più titoli alla fine della carriera o chi ha una migliore classifica a livello di potenziale tennistico Nardi è sicuramente più forte di Cubolli sicuramente più forte di Arnaldi e lì lì con Musetti e compagnia vediamo se Franco mi assiste anche per farvi leggere i messaggi ma comunque io li leggo Alessandro Pierattini altro argomento ridare importanza perfetto Franco ai campionati italiani come Panatta Pietrangeli non lo so se è una cosa fattibile già il calendario è veramente pieno non lo so sarebbe bello perché fino agli anni 90 è stato un torneo molto bello però adesso il calendario è pieno gli impegni sono tanti c'è la Coppa Davis a fine stagione non sai dove metterlo però con tutti i giocatori che abbiamo effettivamente sarebbe bello vedere un campionato italiano e dicevo Sport Pages dice se l'ho letto la notizia stamattina non ha visto la partita non conosco Velenardi secondo voi potenziali dal top 50 sì sì ce l'ha anche perché è classe 2003 ha 20 anni Matteo Alberino dice un po' la stessa cosa che anche lui non ha visto la partita ma è rimasto sorpreso quando ha visto la notizia ovviamente Alberto Tifi dice caduta di stile di nove su quel punto e al saluto buona fede totale del ragazzo che avrebbe avvitato altro a fine partita da parte di Djokovic piuttosto che andargli a ricordare quel punto non gli ha ricordato quel punto gliel'ha ricordato per dirgli che non c'erano problemi ah ok gliel'ha detto alla fine cioè all'inizio l'ho vista un minuto fa la stavano facendo rivedere l'ho rivista adesso gli dice proprio guarda su quel punto là che ho protestato ma non c'è problema non ti preoccupare tranquillo perché quella parte lì l'ho sentita alla fine all'inizio non ho perché l'ho visto che sembrava un po' scocciato e Nardi che Nardi stava appunto per giustificargli gli fa no 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 non ti preoccupare non c'è problema perfetto perfetto quindi tutto il stile di Djokovic è sempre il mirino puntato ma no ma infatti cioè ci stava anche che Djokovic chiedesse o avanzasse diciamo una richiesta al giudice di sedia non ci ho visto nulla di male Enrico Folignani dalla Spezia buongiorno e oggi è veramente un buongiorno particolare Giulien Banchetti purtroppo lavoravo quindi non ho potuto vedere la partita non vedevo l'ora di ascoltare per sapere più della strepitosa partita di Luca Giulien dalla Papua Nuova Guinea che non manca mai i nostri appuntamenti lo ringraziamo no ma io ripeto ho avuto la fortuna perché per come vi ho spiegato di vedere tutta la partita e devo dire anche senza avere il minimo crollo perché appena iniziato io ho detto ok vediamola no vi do una notizia che non mi interesserà tanto da un ultimo paio d'anni soffro di insonnia adesso sto risolvendo quindi tre tre e mezza quattro mi svegliavo sistematicamente adesso sto risolvendo spero il problema oh stanotte alle quattro e mezza mi sono svegliato giuro mi sono svegliato e ho guardato il telefono e ho visto la prima cosa non so se su Instagram o su cosa vedo Nardi che festeggia ho detto no non ci credo forse proprio per quel mio pronostico avevo un sesto senso ha detto qua faccio la figuraccia attenzione e comunque è successa sta cosa Enrico Folignani dice bravissimo Nardi che questa vittoria sia la svolta per una scalata ranking i numeri li ha il ragazzo è molto cioè è molto probabile onestamente Giovanni Ben Dramin l'avevo visto perdere da Ramatani in India e lo ritrovo vincente contro Noli in California il tennis è veramente lo sport del diavolo ma infatti io ho iniziato il post che ho scritto poi su Facebook dicendo ma cos'è questo sport cos'è il tennis perché è veramente è stata una una grandissima sorpresa comunque a me veramente adesso non voglio esagerare però io non è scioccante come sconfitta non è quella di Tyson quando a Tokyo era stato battuto clamorosamente però diciamo che siccome c'è anche il resto del tennis italiano forse noi non la stiamo troppo concependo perché se non ci fosse Sinner e che sarebbe come dire Carnevale di Rio probabilmente oggi no? Tu pensa che guardavo prima di entrare in onda Seppi e Fognini che hanno tenuto in piedi il tennis italiano per loro sfortuna anche nell'era d'oro del tennis e quindi hanno avuto secondo me qualche occasione in meno di fare grandi explo comunque hanno giocato insieme 12 volte Seppi 8 volte Fognini contro Giocovi ci hanno perso 20 volte su 20 Fognini raccogliendo un paio di set e non si giocò a quel quarto di finale a Parigi l'unico che ha raggiunto perché era poi io ho garantito la partita con Montagne con Daniela Spazzesca e Seppi ci ha perso anche lui a Parigi però aveva avuto un'occasione grossissima nel suo anno migliore di batterlo era avanti un break al quinto qualcosa del genere 2-7-1 break però insomma hanno preso era 2-0 avanti era avanti di 2-7 20-0 Seppi e Fognini che sono due signori giocatori poi l'ha battuto Cecchinato guarda la strada l'ha battuto Cecchinato l'ha battuto Sonego poi l'ha battuto Musetti poi l'ha battuto Sinner tante volte e mi dico pensa se una cacchio di volta l'avesse battuto Berrettini probabilmente avremmo uno slam in più Berrettini tra le sfighe che ha anche Berrettini che oggi esordisce nel challenger di Phoenix contro Gaston e lì c'è anche Fognini in quel torneo ma è vero ci ho pensato soprattutto il Roland Garros e Wimbledon quarti e finale in cui Berrettini comunque l'ha messo in difficoltà soprattutto a Parigi e anche a New York ai quarti aveva giocato un set e mezzo bene comunque una di quelle tre volte l'avesse battuto beh a Parigi non credo che Matteo avrebbe battuto Nadal boh non lo so però comunque è sfigato Berrettini è sfigato purtroppo sì purtroppo sì eh a verne poi di speriamo che adesso speriamo che adesso veramente ci sia la possibilità di trovare protagonista ancora se ritroviamo Berrettini allora poi veramente Carnevale di Rio perché poi dopo insomma Sport Pages non ricordo il nome adesso scrivete sempre nome e città lui dice cosa è cambiato per arrivare a questi livelli ma quello che sta dicendo adesso Guido il fatto che è partito cecchinato in qualche modo i coach hanno capito che era aria buona i giocatori che si si allenano spesso tra di loro c'è il clima giusto e hanno alzato il livello uno poi poi è arrivato Sinner che veramente è un giocatore che non era mai nato di quel livello in Italia e quindi stiamo vedendo questo Dario Massimo da vera svolta è partita dai primi anni 2000 quando si sono iniziati a organizzare tantissimi Challenger e Future in Italia da quando il giocatore tecnico ha iniziato a aiutare in maniera diversa i giocatori non per forza convocandoli in centri federali staccandoli da casa insomma un sistema una collaborazione molto maggiore conoscenze molto maggiore che poi hanno portato via via ad arrivare a questi risultati andiamo con i messaggi perché all'inizio ho fatto una sintesi proprio veloce Dario Massimo Carmassi lo vedete dice sì ne ha già iniziato anche la carriera di coach Ileana Moro buongiorno oggi vi vedo in diretta lavorando stasera benissimo Ileana Piera Consigliere dice ho avuto l'onore di conoscere Nard l'ITF organizzato dal mio circolo Park TC Genova nel periodo Covid vedi quello che dicevi tu insomma è passato in tanti circoli e per tanti tornei diciamo di seconda fascia zio Thomas Calimero vedendo il servizio su TG Rai mi è sembrato che dopo il punto conclusivo andando verso l'arbitro il serbo rimproverasse qualcosa all'italiano è stata solo l'impressione sì abbiamo spiegato che non è stato così ancora Pierre dice ottimo ragazzo giocatore dai colpi pulitissimi ed educatissimo sì è vero è anche lui molto educato ha un modo di fare fantastico Michele Verde al minuto dice qui fa vedere ha condiviso un video di Sky al minuto 1.55 il motivo della discussione di Djokovic e Nardi a fine match quindi potete vederlo anche voi Luca Dejana con un giocatore normale nei 100 Djokovic sarebbe agli ottavi il talento lo ha aiutato a vincere sì no ma anche i commentatori e condivido con loro praticamente considerata quella fascia di giocatore forse solo Nardi o pochi altri potevano vincere la partita di ieri perché Djokovic ne ha girate tantissime di quel tipo zio Thomas Calimiero ringrazia Dario Tamburello partita vista su Tennis TV ha lasciato di stucco tutti compresi i commentatori sì lui a fine match parla di miracolo adesso ci deve credere battere Paul che ho visto in gran forma con un bel non è facile la partita con Paul perché Paul sta giocando bene soprattutto ieri ha dato 6-4-6-4 a Umber ieri tra l'altro c'erano dei match nel tabellone maschile che quasi tutti i precedenti indicavano chiaramente il vincitore Fritz Dimitro Monfils era un po' più invece difficile la sfida di Medved perché ci aveva perso due volte d'accordo invece poi ci ha vinto in una partita comunque lottata e ci sono degli ottavi meravigliosi in tutto in tutto il tabellone direi sì Michele abbiamo già risposto insomma ci chiedeva un commento sulle battute nella parte finale cioè della partita quando è finita sono stati da setta di mano Giuseppe Izzo poi Andrea Lupini a me contro il cinese non l'aveva lasciato senza parole ma oggi contro Nole devo dire che ha fatto vedere di essere davvero un tennista fuori dal normale lo scopriremo solo vivendo no ma ha giocato bene però anche con Zhang sì ripeto la partita è stata pazzesca di oggi Dario Tamburello quanti meriti date a Giorgio Gallimberti in una cosa di Nardi abbiamo già spiegato che chiaramente da poco però evidentemente qualcosa di buono è successo direi che tra l'altro Giorgio è stato un giocatore che a livello junior ha fatto dei risultati importanti e i commentatori ricordavano che nel 2005 dove sono nato io a Monza che si dice Monza ma pensavo fossi nato nel 2005 no 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 dove non quando c'è stato il challenger dove hanno giocato Garimberti contro Djokovic vinse Djokovic ma era 2005 non so in che periodo si giocasse ma 18 sono proprio queste hai fatto bene a ricordarlo le esperienze che poi un coach che ha giocato perché poi c'è sempre la solita diatriba il buon giocatore o grande giocatore non necessariamente diventa un grande coach e io direi anche figurati il contrario mi viene sempre da rispondere no perché voglio dire perché dobbiamo sminuire un ragazzo che ha dedicato la vita al tennis è arrivato alle porte dei primi cento e ha conosciuto e ha giocato anche con giocatori tipo Djokovic ti può aiutare ovviamente di più perché Djokovic lo vedi come un essere umano cioè hai giocato contro una persona che ha fatto il maestro per quanto bravo e per quanto preparato ma che magari ha giocato a tennis che ne so in terza categoria e si trova a spiegare a Nardi come affrontare Djokovic insomma è un po' più complicato secondo me poi ci sono stati c'è stato Arrigo Sacchi che ha giocato a calcio in terza categoria o in prima categoria e ha allenato la squadra più forte del mondo e tanti allenatori di tennis che dal niente sono stati bravissimi guarda Nick Bollettieri e tanti altri però diciamo che aver giocato a tennis a certi livelli che che alcuni vogliano rovesciare la realtà aiuta e come poi non è un teorema questo siamo d'accordo Roberto Rivetti dice grande Nardi Musetti penso e spero ci sia quasi quasi similati cambiamenti che sta provando però gli manca l'umiltà ma non credo che sia l'umiltà Rob Pred dice Musetti atteggiamento fastidioso Yuri Rossini secondo me il livello di gioco di Djokovic di questa notte si rassume nel break concesso a Nardi nel terzo gioco del secondo set sì però quello secondo me Djokovic poi nel terzo ha giocato quindi il livello non è stato solo quello che dici tu però ho capito cosa intendi Beatrice Corradi Nardi non si è allenato in Spagna con Sinner è vero sì a Alicante ad Alicante che è il secondo secondo anno credo fossero golli sapete non Nardi no no anche Nardi anche Nardi c'è stato un periodo si sono alternati non ha avuto sempre lo stesso sparring se non forse è stato ad Alicante comunque a Monte Carlo a un periodo Nardi è stato con Sinner è vero questo perché diceva forse prima qualcuno che Sinner sta iniziando a fare anche da corso ti confermo ragionandoci che la differenza con questa vittoria è che Djokovic rispetto ad altri italiani cioè è partito nella stagione molto motivato perché veniva dalle sconfitte in Australia in semi con Sinner ha giocato due set malissimo e qui di nuovo dove ci teneva perché ci teneva e penso che di salute stia bene ha fatto fatica quindi sono due segnali notiamoli anche che magari siccome finirà prima o poi siccome finirà di vincere e stravincere il fatto che abbia fatto fatica in due appuntamenti che ci tenesse così tanto è comunque da metterli non è ancora un dato però non trascuriamo il fatto che prima o poi anche lui calerà di rendimento e se prendiamo sì mi viene da fare questo ragionamento allora lasciamo perdere la United Cup dove l'Italia non aveva questi giocatori in sostanza ATP Finals perde da Sinner e attaccato Coppa Davis perde da Sinner poi davvero lo batte in finale a Torino poi Australian Open perde da Sinner e adesso ritorna e perde da Nardi adesso va a finire che licenzia tutto il team italiano perché inizierà a stare un po' sulle palle gli italiani insomma dai adesso stiamo esagerando tra l'altro ieri sai perché non lo fa? perché dopo vanno con gli italiani ieri dicevo il doppio Sinner Soneco che ho visto un pezzettino hanno perso 7-6 6-2 7-6-6-3 da Granolias e Zebaios però nel primo set hanno avuto un paio di occasioni clamorose di andare avanti un break o di andare palla break ha sbagliato una risposta sonica e poi una volée facilissima Sinner per andare avanti un break peccato poi dopo la fine sono venuti fuori la qualità dei doppisti si hanno perso il tiebreak a zero l'unica cosa si si no ma poi lì finite quelle occasioni poi si è capito che insomma gli altri erano un po' più forti mentre Bolelli e Vassori hanno vinto per rinuncia quindi vanno ai quarti Rosa Bianca Americo da Vienna dice Wonderful Nardi e Alessio Bonora fa il ragionamento che anch'io ho fatto devo dire la verità se anche a Miami Djokovic dovesse ciccare Sinner rischia di ritrovarsi al numero uno in meno tempo di quello che si aspettava la matematica è contro questo ragionamento no 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 il ragionamento c'è e te lo dico io completo quello che dice lui io non penso che non pensavo che questa stagione può cioè al di là di quanto può giocare bene Sinner non credevo alla chance veramente concreta da numero uno nel mondo però si avvicinano molto e quindi quello che lui dice in meno tempo di quello che si prospettava era più lungo il tempo sicuramente non è detto che ci diventi numero uno nel mondo però questa situazione che abbiamo diverse come dire diversi elementi come hai detto tu ci sono dei segnali e adesso bisogna vedere quello che sarà Sinner con Shelton oggi questa sconfitta di Nardi ha fatto un grande favore a Sinner perché questi erano tutti punti buoni per Djokovic mentre Sinner e Alcaraz dovevano difendere tantissimo poi dipende anche tanto dal rendimento che avrà Sinner sulla terra chiaro Cristian Pedrascia andiamo veloci con i messaggi strepitosi colpi variazioni traiettorie Rosa Bianca Merico dice buongiorno ho visto solo il terzo set hai visto il meglio non ci potevo credere Elena De Filippo speriamo che anche Nardi trovi la continuità così che il tennis torni a far paura al mondo ma adesso ok Musetti stiamo aspettando di capire come può evolvere la sua situazione ma ribadisco 2001 Sinner 2002 Musetti 2003 Nardi poi può arrivare qualcun altro anche magari Sinner Pierico Bolli eccetera dice Stefano Salvini sono felice per Nardi riguardo a Musetti Arnaldi bravo 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 non scorderò mai l'esultanza senza senso dopo il 6-0 6-0 a Nardi e non dico altro non era senza senso era poco elegante l'avevo criticato anch'io però era sintomatico di quanto Musetti nonostante 6-0 6-0 temesse Nardi perché sa quanto può giocare bene Paola aveva la stessa classifica di Nardi no questa dopo la vado a controllare può darsi può darsi una volta sarei sorpreso se andassi in lotta cioè io penso che Sinner per quello che sta facendo vedere può finire anche in 3-7 ma non 3-7 lottati tutti e tre questa cosa mi sorprenderebbe io dico che vince Sinner poi ovviamente Shelton è Shelton però Shelton ha fatto due partite con tanti errori ha vinto al terzo deve giocare una partita clamorosa per battere Sinner a meno che non ci sia un problema con Janik ma non credo allora in un inizio di stagione non eccezionale di Shelton due dati il fatto che abbia vinto queste due partite tirate quindi si sia rodato e possa aver ritrovato fiducia pericoloso perché comunque poi gli avversari i Messi che se rundolo non erano comodi e poi il fatto che lui per sua stessa missione dice io vivo per queste partite mi esalto in questi palcoscenici l'ha già dimostrato ampiamente con la semia New York e quarti a Melbourne quindi è insomma è una partita assolutamente tosta è un 60-40 nonostante sì sì secondo me magari qualcosina in più a favore di Sinner però occhio sì anche perché Shelton è abituato a giocare la sera comunque con le condizioni di un Wells Janik ha giocato di giorno ci sarà all'inizio magari un piccolo aggiustamento anche perché come gioca Shelton gioca solo lui così Omar Gaffuri dice io credo che il tennis sia uno sport tremendo oltre naturalmente ad essere capaci di giocare ha fatto molto di testa vedi infatti tante partite già vinte o perse ribaltate per deconcentrazione sì soprattutto in campo femminile però sì Andrea Colovini dice e invece femminile come siamo messi Paolini ora in forma e speriamo duri ma le altre ragazze Trevisan può tornare a crescere in classifica anche al di fuori della terra è una domanda molto cioè ci sono tante cose meriterebbe una risposta lunga adesso vediamo Paolini gioca il primo match sul centrale mi pare vado a ricontrollare ma mi pare forse così sì con Potapova apre alle nostre 19-7 di sera penso che più che altro si potranno un po' alternare le giocatrici a seconda del loro momento e anche del tabellone di altri fattori anche però arriverà il momento di Trevisan sul cemento non lo so non penso che possa fare quello che sta facendo Paolini Pier dice previsare un po' l'incognito è sempre un po' strana da leggere vediamo vediamo poi sulla terra se si riprende Pier mi chiede se sono pronto per Camor ma sai quando c'è da commentare commentiamo quindi è una settimana molto interessante quindi sarà veramente bello seguire il biathlon in quest'ultima settimana io questa settimana ti annuncio che sono a Falun per fare due gare di fondo vai a fare due gare di fondo? sì sì vabbè bravo venerdì è sabato ma no bravo ci vediamo magari però tu a Camor sei alla sera ah non ho capito che commenti sì sì allora ci vediamo ma cosa pensavi che facessi la coppa del mondo? ma davvero pensavo che andassi a farlo io che ne so non mi rendo conto non ci pensavo sono appassionato ma non ne so tanto c'è qualche se sentite dei rumori strani al cane Elena a proposito di biathlon Beatrice Corradi ha letteralmente conquistato il pubblico sì è vero perché i cori aumentavano Luca 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 è vero è stato così stanotte ti confermo che Veseli e Nardi erano sono erano e sono 123 del mondo pazzesco pazzesco questo non lo sapevo Giampiero Gaeta purtroppo non ho visto il match stamattina non credevo ai miei occhi complimenti a Nardi dopo domani lo attendiamo alla prova del 9 con Paul per capire se abbiamo un altro potenziale top 10 top 10 calma è un giocatore comunque fantastico e che ci indurrà a seguire pure lui tutte le sue partite perché questa è la cosa poi bella e che sta diventando difficilmente gestibile Djokovic tra l'altro leggevo che ha dichiarato che non è sicuro di andare a Miami è perché forse non sta così bene e poi il suo obiettivo questa stagione è chiaramente l'Olimpiade e Roland Garros e Wimbledon chiaramente quindi penso che voglia preparare bene la terra poi tutto sommato lui forse nella sua testa dice voglio difendere i tanti punti che ho in quei momenti più che adesso star qua a impazzire per questi tornei un momento forse non così positivo Enzo Zeni dobbiamo godere di questo periodo del tennis italiano gli investimenti della federazione pagano sempre siete sempre i migliori commentatori troppo buono Tommaso Borzacchini Nardi ha giocato una partita epica ma non trovate che in campo sia ancora troppo bravo ragazzo sì sì un pochino ha dato una definizione giusta corretta Tommaso però ognuno ragazzi io l'ho anche criticato per questo però ognuno è fatto come è fatto quindi si trova il suo equilibrio può andare bene anche così morbidone tenerone però si chiama così va bene e dice ancora non ho visto mai nessuno scusarsi per i nastri che prende l'avversario forse quel tantino in più di cattiveria può aiutarlo a portare a casa altre tante partite che gioca sul filo del ragioio può essere però insomma vediamo non c'è una regola esatto Franco Timitilli tecnica mostruosa di Nardi che non conoscevo si prospetta un grande futuro per il tennis italiano saluti da Java indonesia no abbiamo aggiunto anche l'indonesia all'estero all'estero tiriamo da macchina siamo fortissimi all'estero sì dovremmo fare una versione tipo Rai International esatto esatto Pierluigi De Luca Nardi è un mini sinner no sono diversi però non ne riesco a immaginare due ragazzi più diversi sinceramente salutiamo Gian Domenico Tiseo che dice Giacobici potrebbe non andare a Miami dice anche lui l'ha dichiarato in conferenza stampa Giapparici dice Veseli era numero 123 questa mi era sfuggita Nadia Ferrarotti non darei no è per finito no io non l'ho per finito però ci sono dei segnali questo sì secondo me avrà ancora dei colpi da gran campione piccole crepe piccole crepe piccole crepe sì Roberto ti dice Maggi come era 99 a 1 ma si scherza perché però l'uno c'è perché se diceva 100% l'uno c'è non venivo non venivo alla trasmissione stamattina senza 100% dai finiamo con Cesare Motta dice visto tutta la partita di Nardi svegliato adesso dopo il primo set ho cominciato a credere veramente che potesse vincere Nardi Musetti al tie break del secondo set è riuscito ancora a farmi arrabbiare per l'atteggiamento fastidioso buona giornata da Cesare Motta Nadia Ferrarotti dice mi diede proprio fastidio Musetti lì mi è sceso ancora chiaro consigliere anche commentatore di fondo sì sì Guido si cimenta anche in altre discipline non soltanto il tennis anche il curling qualche volta ha commentato ma voglia esperto Carlo Venditelli dice Luca Nardi è molto composto nel suo gioco al contrario di Musetti cobolle e sonnevo si vede la mano di Gallimberti beh era anche prima così eh Nardi però va bene Maria Cristina Benelli beh io sto lavorando e vi ascolto speriamo di non fare disastri no tu non farne ma poi ci pensano i giocatori e che lavoro fai perché se fai che ne so la chirurga lascia stare se fai invece magari una roba più tranquilla sempre i disastri si possano limitare Beatrice ricorda che era dato 17 a 1 e che era già buono voglio dire non era neanche male e salutiamo Rosa Bianca che va al lavoro che è lei a Vienna e anche noi insomma ci apprestiamo a fare quello che l'aria 17 a 1 e percentualmente se lo direbbe un matematico è molto peggio di 99 su 100 esatto esatto è proprio quello che intendevo eh Sergio dice cosa c'è in comune tra il momento alto del tennis del nostro nuoto e come si potrebbe applicare il modello agli altri sport sono due cose molto diverse lì veramente è tutto beh anche nel nuoto ci sono i gruppi di lavoro quindi questo può essere un discorso da approfondire Elena finiamo con lei davvero perché è stata una partita incredibile dice nonostante loro non riuscivo a smetterla di guardarla Giocović è stato segnato più del previsto della sconfitta dell'Australian Open Elena Dalba può essere può essere lui ha detto stesso non è abituato a non avere titoli a questo punto del calendario della stagione grazie a Franco Culcasi che ci ha assistito dietro le quinte ovviamente ringrazio Guido Monaco che ritroviamo domani sempre alle 10 ma anche stasera alle 19 sarò in diretta di nuovo per tornare su Nardi e anche avvicinare il match di Sinner perché non ne abbiamo parlato adesso non si poteva e un'ora abbiamo fatto ciao